Narro Digitale approda la banda ultralarga di Open Fiber. Al comune la firma degli atti. Gaetano Ravana. La fibra ultraveloce di Open Fiber collega anche Narro, comune della provincia grigentina, dove sono già partiti i cantieri per la costruzione della rete in fibra ottica, che consentirà a cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici di usufruire di prestazioni digitali all'avanguardia. In Fratelli Italia, la società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'ambito del piano banda ultralarga, ha messo a gara la realizzazione e la gestione dei collegamenti ultraveloci nelle cosiddette aree bianche del paese, zone in cui nessun operatore ha manifestato interesse a investire. La nuova rete a Narro si svilupperà complessivamente per circa 30 km e coprirà 119 unità immobiliari attraverso la modalità Fiber Tooth Home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici, l'unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 GB al secondo. Gli interventi di posa dei cavi prevedono il riutilizzo di infrastrutture esistenti. Intanto ieri al Comune di Narro è stata siglata la convenzione che fissa tempi e modalità dei lavori per un nuovo intervento che Open Fiber avvierà nei prossimi mesi per connettere all'infrastruttura altre zone del paese non coperte. A stagire l'accordo sono stati la sindaca Maria Grazia Brandare per Open Fiber il regional manager Sicilia Roberto Renna che per l'occasione era accompagnato dal field manager coordinatore Daniele di Pietrandonio e Calogero Licata, field manager responsabile dei lavori. Una rete in vibra ottica offre grandi opportunità per chi vive e produce investe a Narro, dice il regional manager Roberto Renna. La didattica a distanza, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica e gli usi quotidiani della rete sono solo alcuni degli esempi di questa transizione digitale fondamentale che l'amministrazione comunale ha pienamente recepito e condiviso.